Cosa ne pensano i cittadini di Torre del Greco di Giorgia Meloni? Ai microfoni di TV City molti consensi riscontrati per il neopresidente del Consiglio. I torresi si dicono fiduciosi per il suo futuro operato, chiedendo maggiore attenzione ai temi del lavoro e dell'occupazione. Se fa qualcosa di buono ben venga, se no se ne può andare. Io di politica non è che me ne intendo, però penso che sta facendo una cosa giusta, non lo so, credo di sì. Speriamo che va bene, che posso dirti della Meloni? Speriamo che va bene. È ancora troppo presto per dire come stanno andando le cose, quindi penso che è troppo prematuro ancora. La Meloni? La Meloni? Ce l'abbiamo adesso come Presidente del Consiglio e dobbiamo solo sperare che faccia delle cose buone. Io voglio che l'Italia va bene, ma ho i miei dubbi, ho i grossi dubbi, anche perché noi ci siamo focalizzati sul problema dei 100 emigranti. Gli altri 9.000 passano, vengono collocati e tutto sta a posto, però va bene così, il problema loro è quello e per noi va bene così. Che cosa ne pensa della Meloni? Secondo me la Meloni già sta sbagliando tutto, nel senso che litiga con la Francia, la Germania, tutti i paesi europei e per questo non va bene. Secondo me dovrebbero già cadere. Fin quando fa tutto per il paese, per i cittadini italiani, per me va benissimo, anche se so, però mi va bene, al di là che ci deve essere anche solidità tra donne. Sarà tutto uguale sempre, non cambierà mai niente qui. Siamo sempre noi quelli che dovremmo a darci la mattina e andare a lavorare. La Meloni, quello che sta facendo adesso è tutto a posto, mi fa piacere che va avanti così, fa lavoro, produce molte cose. Meglio di Meloni, meglio è la prima donna in candidata, almeno vediamo una faccia più sorridente. A me piace Giorgia Meloni, a me piace sinceramente, la vedo una persona molto spontanea, con un solo viso. Deve fare qualcosa di buono, pure per chi lavora e per chi sta messo a posto, la verità, perché con un mensile di 1.400 è per chi ha una casa, un affitto e con i figli uno non ce la può fare. Inutile che vede il reddito di cittadinanza, perché può soltanto aiutare le persone.